Di nascita, di famiglia, attaccato alla sua terra, molto curto, molto curioso, molto ironico. Un uomo che, nella sua passione politica, ha sempre anteposto una visione aperta dei problemi di questo territorio. Non era un campanilista, era un uomo che vedeva e sapeva di essere il mondo e lo vedeva come cittadino del mondo, cittadino del suo territorio, con una visione molto molto aperta su ogni tema.